Ben ritrovati, oggi parliamo di un fattaccio, perché tale è, nel porto di Sus ci sono sequestrati oramai da più di un anno e mezzo 282 container provenienti dall'Italia e che contengono rifiuti speciali pericolosi, cioè scarti di rifiuti ospedalieri. Questi rifiuti ospedalieri che sono stati sequestrati in Tunisia nei prossimi giorni, al massimo le prossime settimane, torneranno in Italia. Cerchiamo di riepilogare questa vicenda che ha portato in Tunisia alla fuga in Germania del proprietario dell'azienda importatrice tunisina, all'arresto dell'ex ministro dell'Ambiente e ad altre persone, insomma in tutto ci sono oltre una trentina di indagati che dovranno rispondere di reati pesantucci. La vicenda nasce nell'estate, fine maggio del 2020, quando la SRA, un'azienda del Salernitano specializzata in trattamento di rifiuti, decide di esportare questi rifiuti ospedalieri in Tunisia, mettendosi d'accordo con la Soreplast, che è un'altra azienda, quella che vi dicevo prima, tunisina. Questi rifiuti si possono esportare in altri stati, sia europei che extraeuropei, soltanto se sono rifiuti riciclabili e i rifiuti ospedalieri non sono riciclabili, ma vanno trattati e poi messi in discarica. Non è possibile esportare, secondo le leggi nazionali italiane, secondo le normative europee, non è possibile esportare rifiuti ospedalieri all'estero. E allora questi rifiuti sono partiti dalla Campania e la Regione poi ha ammesso di non avere fatto alcun controllo su queste balle di rifiuti che partivano per la Tunisia, sono partite con una bolla in cui si dicevano che erano materie plastiche riciclabili. La Soreplast, che non ha alcun impianto di trasformazione, ma soltanto di stoccaggio e di scarica, secondo il contratto, e qua parliamo di milioni di Euro, avrebbe dovuto trattare questa plastica, che poi plastica non era, riciclarla per poi rispedirla, una volta riciclata e quindi riutilizzabile, rispedirla in Italia. Sono sorti le prime denunzie di alcuni media locali, poi di alcune televisioni, poi di alcuni media italiani, fino a quando scoppia lo scandalo in Tunisia, cominciano le proteste con i cartelli italiani, riprendetevi la vostra merda, la magistratura tunisina aprono inchiesta. In questa inchiesta allora c'era il governo precedente, che era preceduto da Mescici, Mescici perde un po' di tempo, non fa dimettere il Ministro dell'Ambiente, il Ministro dell'Ambiente che poi verrà arrestato insieme ad un'altra decina di persone, tra cui il capo delle dogane, e in tutto gli indagati sono una trentina che dovranno rispondere di reati, come capite non sono reati di secondo ordine. Nasce un problema di carattere diplomatico tra i due paesi, perché la Tunisia dice all'Italia riprendetevi le vostre balle. L'Italia non si riprende queste balle, comincia una battaglia legale in Italia, fino a quando il Consiglio di Stato sostiene che l'Italia non debba mettere nessun ostacolo al rimpatrio di questi rifiuti che sono loro. Tenendo presente che da oltre un anno e mezzo questi rifiuti che sono sotto sequestro qui a Sus, costano alla regione Campania, che poi è quella che di fatto è politicamente, ma anche legalmente ha la responsabilità di tutta l'operazione, 24 mila Euro ogni giorno. Questo è lo scandalo ecologico più grande nella storia della Tunisia, che al di là di questa operazione illegale, dove evidentemente ci sono stati degli interessi, perché dall'Italia sono partite, per poter fare partire a questi tipi di rifiuti è necessaria comunque un assenso da parte del Ministero italiano dell'Ambiente, che non è stato nemmeno richiesto, perché c'è stata solo l'autorizzazione da parte della regione che poi, come vi dicevo, ha ammesso di non aver effettuato alcun controllo. Lo stesso è avvenuto in Tunisia, dove non si capisce bene, c'è stato un rimpallo in sede giudiziaria di responsabilità tra il Ministero dell'Ambiente, la direzione delle dogane, fatto sta che questi rifiuti, senza alcuna autorizzazione né da parte delle dogane né da parte del Ministero dell'Ambiente tunisino, comunque sono arrivate a Sus. Piccola notazione, a fine dicembre dello scorso anno, dopo la visita del Ministro Di Maio in Tunisia, dove insieme al Capo dello Stato si era deciso di chiudere questa vicenda che si stava appinando un po' troppo per le rughe, oltre il limite della decenza, c'è stato un incendio nel deposito della Soreplast che ha tenuto impegnati i vigili al fuoco almeno un paio di giorni per spegnere tutto. Evidentemente lì sotto le fiamme si sono andati in fumo letteralmente anche una parte dei rifiuti che venivano dall'Italia. Ma al di là di tutto c'è uno scandalo che è ancora maggiore, questo è un caso che è venuto fuori, probabilmente ce ne saranno altri. Pensiamo però che paesi occidentali come l'Italia esportano in paesi del terzo mondo, rifiuti che sapendo in anticipo che questi rifiuti non possono essere trattati, perché la Tunisia non è in grado di trattare nemmeno i propri rifiuti. Ora si pone quando questi rifiuti torneranno nel porto di Salerno, se non è in questa settimana e sicuramente nelle prossime, perché c'è stata una sentenza al Consiglio di Stato, una sentenza della Corte europea, sono d'accordo tutti in Italia, sono d'accordo tutti in Tunisia, il problema è che ora torneranno queste 7 mila tonnellate di rifiuti ospedalieri in Campania dove non si sa che fine ne faranno questi rifiuti. Questo scandalo ricorda molto quello della terra dei fuochi in Campania dove sotterravano e bruciavano rifiuti tossici e questo collegamento è stato fatto tra il Partito dei Verdi e Tunisini e il Comitato della terra dei fuochi in Campania con alcuni esponenti politici hanno movimentato un po' tutta questa vicenda, vicenda che doveva rimanere all'oscuro come chissà quante altre vicende sono rimaste, nessuno ne sa niente. Resta sul fatto che per la Campania è stato, oltre al danno c'è anche la beffa, ha pagato per portare questi rifiuti all'estero, paga 24-25 mila Euro al giorno per la gestione di questi rifiuti sotto sequestro nel porto di Sus, è già passato un anno e mezzo, fate qualche moltiplicazione e vedete già quanta è la somma, ora dovrà ripagare il rimpatrio di questi rifiuti e poi decidere che farne di questi rifiuti perché la Campania non è in grado di smaltire questi rifiuti speciali. Tutto questo perché c'è questa usanza dettata da un falso senso di superiorità per cui i rifiuti del mondo occidentale possono essere buttati in discarica nei paesi del terzo mondo, tanto questi poi non dicono niente. Come si vede, non è vero.